Assessore Angeloni, ci troviamo di fronte a un'esigenza nuova. Il Comune di Bergamo deve far fronte all'esigenza di sale per funerari civili. Nell'ultimo anno ci siamo resi conto, dall'osservazione degli uffici del servizio cimiteriare, che sono aumentate di parecchio, da 14 richieste nel 2014, siamo arrivati a 23 richieste nel 2015 e già 13 nel 2016, di spazi per celebrare funerali in rito civile, per fare commemorazioni presso il cimitero cittadino. Gli spazi per questi usi ad oggi non ci sono. Abbiamo la camera mortuaria che è in un luogo angusto e che non può ospitare celebrazioni di questo tipo e abbiamo a pagamento la sala che mette a disposizione il forno crematorio, che però riesce a ospitare 60-70 persone. Per funerali di persone che richiedono il rito civile con molto seguito siamo in una situazione di impasse perché non è possibile svolgerli e laddove sono stati svolti si è dovuti farli all'aperto. Quindi è un'esigenza che ci siamo presi in carico in questi giorni e stiamo dialogando anche con alcuni operatori privati per pensare a una soluzione. Si pensa a una soluzione all'interno del cimitero momentaneo di Bergamo? Si pensa a una soluzione all'interno con tutti i problemi dovuti agli spazi perché siamo obbligati per legge a mantenere degli spazi di salvaguardia, delle sepolture, quindi non tutti gli spazi all'interno del cimitero anche se vuoti sono edificabili, ma anche all'esterno. Grazie.